Allora, parlavamo di questi germi, di questo chilo e mezzo di germi. Sono buoni? Questi germi sono assolutamente buoni. E c'è un'alterazione? Direi che sono assolutamente indispensabili per la crescita e lo sviluppo dell'organismo, perché questi germi, l'intestino umano, quando ancora è in fase di embrione, quindi durante la vita uterina, è sterile. Perché l'intestino umano comincia a contaminarsi all'atto della nascita, all'atto del parto, popolandosi di quella flora batterica che è quella contenuta all'interno della vagina della mamma. È essenziale perché senza la presenza di questi germi, l'intestino non può maturare. Comincia a maturare dalla nascita e fino all'età di 2-3 anni comincia a svolgere poi tutta una serie di funzioni che sono fondamentali. Primo fra tutto la funzione dell'acquisizione della immunità, che durante la vita fetale l'individuo è protetto dall'immunità della madre, durante invece i primi anni di vita matura questo sistema immunitario che lo rende più forte dal punto di vista difensivo rispetto alle aggressioni microbiche. Telefonata, pronto? Volevo dire, professore, una domanda, cioè volevo ripetere ancora, sul reflusso gastrico, diciamo, questi gas possono provocare addirittura la tosse, e questa tosse può essere catarrale o è secca? E poi se mi può dare alcuni riferimenti sull'alimentazione per il reflusso, perché ne soffre un sacco di gente. Grazie e buon pomeriggio. Allora, diciamo che siamo un po' fuori dal tema di che stiamo trattando, ma ad ogni buon conto le rispondo molto volentieri. Il reflusso gastrico, come le ho già detto, è una situazione che dipende dalla mancata continenza dello sfintere esofageo. È evidente che tutti i cibi che possono stimolare la secrezione acida sono in qualche modo da evitare. Per essere pratici, che cosa possiamo evitare quando noi soffriamo di questa situazione? Il caffè, il fumo di sigaretta, i ragù ristretti di carne, i brodi ristretti di carne, la carne rossa alla brace, la cioccolata, la frutta secca, le spezie, parliamo in particolare di menta, pepe e tutto il resto. Le bevande gassate, che sviluppando ancora di più del gas all'interno dello stomaco favoriscono poi i fenomeni dell'erutazione quando viene vinta la pressione dello sfintere. E al di là di questo che è l'aspetto qualitativo, è molto importante l'aspetto quantitativo, ovvero la necessità di fare dei pasti piccoli e frequenti e soprattutto di fare un pasto leggero la sera perché la situazione della notte è una situazione un po' particolare. L'individuo è sraiato, quindi in posizione che favorisce il rigurgito e durante la notte per l'ipertono vagale c'è una condizione di ipersecrezione dell'acido. Quindi è fondamentale che il paziente che soffre di reflusso abbia un'alimentazione che sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo adeguata alla sua situazione. Grazie. Professor Tarullo, voi avete fatto delle ricerche in laboratorio all'università. Sì. Sull'olio. Quale olio? Allora, ritorniamo all'olio extravergine d'oliva. Per parlare di olio extravergine d'oliva, attenzione, l'olio extravergine d'oliva dovrebbe avere un grado di acidità bassissimo espresso in acido oleico al massimo dello 0,1%, cioè in pratica 0,1 grammi per 100 grammi di olio. Molto spesso ci troviamo di fronte ad oli che non sono l'olio extravergine con tutte le sue belle attività benefiche, ma ci troviamo di fronte a delle sofisticazioni. Prima di tutto la mescita con altri oli più scadenti, tipo oli di semi, olio di sansa per esempio, l'olio lampante e l'olio cosiddetto olio vergine, che ha un'acidità superiore all'olio extravergine d'oliva, cioè arriviamo a un massimo di 2 grammi per 100 litri espressi in acido oleico. Accanto a questo ci sono delle vere e proprie frodi, come la colorazione di oli provenienti da altri, tipo l'olio di semi, l'olio di arachidi, l'olio di mandorla, ma che vengono differentemente colorati con dei pigmenti, fino ad arrivare al fatto che vengono spacciati degli oli nazionali, quando nazionali non sono. Per esempio, gli oli provenienti dal Nord Africa contengono un tasso di sostanza trinulino-nerina che è superiore a quella dell'olio extravergine d'oliva. Ovviamente non tutti questi esami si possono fare perché sono molto onerosi, cioè molto costosi e richiedono tecniche sofisticate e spesso quindi viene surclassata questa cosa qui. Adesso la comunità europea sta adottando delle formule per proteggere l'olio extravergine d'oliva attraverso la dicitura olio italiano al 100%. Vorrei continuare a aggiungere che per ottenere un olio di alta qualità è necessario che ci sia un microclima, una qualità di olive eccellente e noi ce ne abbiamo anche parecchie di varietà tipo la coratina, tipo la raciopo, parlo della coca, parese, ma anche di tutta la Puglia, delle tecniche di spremitura che sono fondamentali e non da ultimo le tecniche di conservazione di questo olio. Allora, ovviamente per tecniche di spremitura potremmo intendere la denocciolatura, per esempio, che noi abbiamo visto fa aumentare il contenuto dei polifenoli del circa 30%. Vi ho una telefonata, un momento. Telefonata, pronto? 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 Sì. Oh, buonasera. Buonasera. Volevo porre una domanda al medico, se gentilmente. Cioè io che uso molto olio, diciamo, cioè di oliva, cioè extravergine, e non uso le spezie come parlava poc'anzi il medico, e faccio un'alimentazione talmente rigida, nel senso che non bevo roba alcolici, non bevo, cioè roba gassata, cioè tutto quello che è così, non faccio colazioni, cioè la mattina che sarebbe forse un male, cioè perché mangio regolarmente un pochino di pasta in più e tendo sempre ad ingrassare, e mangio molte insalate e consumo molto olio. Volevo porre questa domanda al dottore. Grazie. Lui fa una bella domanda. Il problema dell'aumento di peso in un individuo è il risultato di una bilancia. Sui due piatti della bilancia ci mettiamo quello che lei introduce nell'organismo e sull'altro piatto di bilancia mettiamo quello che lei consuma. Quando quello che lei introduce è in quantità superiore rispetto a quello che lei consuma, è evidente che è ingrassa. Molto spesso c'è un po' di questa favoletta del fatto dei pazienti che ci dicono dottore guardi io mangio verdura e ingrasso. Le riporterò una cosa simpatica che il mio maestro mi ha insegnato un po' di tempo fa. Secondo lei perché la mucca ingrassa? La mucca ingrassa e mangia fieno, mangia verdura. E allora probabilmente qui può entrare in gioco un meccanismo che riguarda l'omeostasi del nostro microbiota. c'è un piccolo batterio, il teta, iota, micron, eccetera, che è responsabile di trasformare l'energia che riviene dalla verdura in grasso. E quindi anche questo è molto importante. Ma ad ogni buon conto il risultato finale del grasso che non è altro che l'accumulo di energia in eccesso che riviene da quello che noi mangiamo non è altro che uno squilibrio fra la quantità di energia necessaria per l'organismo e quello che noi introduciamo. Quando questa è in eccesso l'organismo lo deposita sotto forma di tessuto adiposo. Il grasso non è altro che una forma di deposito alla quale si attinge nel momento in cui le necessità sono superiori a quelle che noi introduciamo. Ovvero, se mangiamo di più ingrassiamo e poi andiamo a vedere qual è il tipo di alimento anche che ci può determinare questo stato. Se noi mangiamo di meno dimagriamo perché è un dato talmente semplice da evidenziare. Abbiamo un intervallo di pubblicità e dopo continueremo a parlare di olio.